Buongiorno, io sono Peter, io ho questa piccola cantina qua a Santo Stefano Bellbook che si chiama Caparon, io sono venuto in Italia quasi 20 anni fa, ho lavorato a Milano per un'azienda danese, perché sono danese, sono venuto qua in Lank tante volte per fare piacere del vino, cibo e natura e 13 anni fa ho deciso di comprare una piccola casa qua e ho pensato di avere una casa con un piccolo della vigna dove io posso fare 200 partiglie di vino all'anno, adesso questa cantina che non è grande è ancora un hobby, ma io posso fare 6.000 partiglie all'anno, metà di Pinot Nero e metà di Lank fresa, e in più io lavoro con altre cantine dove così ossia sulla mia etichetta anche un parolo, un paparesco, un guerriero anese e anche un mito classico recentemente. Sono Benedetta, sono la compagna di Peter Thompson, del Barun, di Cabarun, produttore di vino che conosco nel 2008, che produceva vino stanziato in Italia, insieme vagando per le colline a Neive abbiamo trovato una struttura veramente molto bella a parer nostro, che abbiamo trasformato in small hotel, acquistata nel 2015, inaugurata nel 2016, una struttura in bed and breakfast con tre camere standard e una king size, serviamo la colazione. Per attendere i miei ospiti ho aperto anche un piccolo negozietto che funziona da reception, oltre ad una sala degustazione dove gli ospiti possono degustare i vini di Peter, soprattutto Cabarun. Grazie a tutti.